DELLA LIBERA MORTE Molti muoiono troppo tardi, e alcuni muoiono troppo presto. Suona ancora strano l'insegnamento Muori al momento giusto. Muori al momento giusto. Questo insegna Zaratustra. In verità, chi non vive mai al momento giusto, come potrebbe morire al momento giusto? Bisognerebbe che non fosse mai nato. Questo consiglia i superflui. Ma anche i superflui si danno importanza quando muoiono, e anche il guscio più vuoto vuole essere schiacciato. Tutti danno importanza al morire, ma la morte non è ancora una festa. Gli uomini ancora non hanno imparato come si celebrano le feste più belle. La morte è come adempimento, vi mostro, che diviene per i viventi una spina e una promessa. L'adempiente muore la sua morte, vittorioso, circondato da persone che sperano e promettono. Così si dovrebbe imparare a morire, e non ci dovrebbero essere feste dove simile a morituro non abbia consagrato giuramenti dei vivi. Morire così è la cosa migliore, ma la seconda è morire nella lotta e profondere una grande anima. Ma a chi lotta come a chi vince è odiosa la vostra morte ghignante che si avvicina di soppiatto come un ladro, anche se viene da padrona. La mia morte vi lodo, la libera morte che viene a me perché io voglio. E quando vorrò, chi ha una meta e un'erede, quegli vuole la morte al momento giusto per la meta e l'erede. E per rispetto alla meta e all'erede non appenderà più corone secche nel santuario della vita. In verità, non voglio somigliare ai funai, essi tirano in lungo la loro fune e intanto camminano sempre ritroso. C'è chi diventa troppo vecchio per le sue verità e vittorie, una bocca sdentata non ha più diritto a ogni verità. E chiunque voglia avere la gloria deve congedarsi per tempo, dall'onore ed esercitare la difficile arte di andarsene. Al momento giusto. Bisogna cessare di farsi mangiare quando sia ancora il sapore migliore. Lo sanno quelli che vogliono essere amati a lungo. Ci sono in vero mele aspe la cui sorte di attendere l'ultimo giorno dell'autunno. Ma nel frattempo diventano mature, gialle e rugose. Ad altri invecchia prima il cuore, ad altri prima lo spirito. E certuni sono vecchi in gioventù. Ma essere giovani tardi mantiene giovani a lungo. A qualcuno la vita non riesce. Un verme velenoso gli roda il cuore. Di almeno l'impressione che il morire gli riuscirà per questo meglio. Qualcuno non diventa mai dolce, marcisce già durante l'estate. vita è quel che lo trattiene al suo ramo. Troppi vivono e troppo a lungo restano sui loro rami. Venisse una tempesta che scrollasse dall'albero tutto questo marciume e pasto di vermi. Venissero predicatori della morte rapida. Sarebbero per me le giuste tempeste e i giusti scrollatori degli alberi della vita. Ma io sento solo predicare la morte lenta e pazienza con quanto è terreno. Ah, predicate pazienza col terreno. È questo terreno che ha troppa pazienza con voi, poche maldicenti. In verità, troppo presto è morto quell'ebreo che i predicatori della morte lenta onorano. E a molti fu sin dall'ora fatale che egli sia morto troppo presto. Egli conosceva soltanto le lacrime e la malinconia dell'ebreo. insieme con l'odio dei buoni e dei giusti, l'ebreo Gesù e lo assalì la nostalgia della morte. Fosse rimasto nel deserto e lontano dei buoni e dei giusti. Forse avrebbe imparato a vivere e imparato ad amare la terra e inoltre a ridere. Credetemi, fratelli, egli è morto troppo presto. Avrebbe ritrattato lui stesso la sua dottrina se fosse giunto alla mia età. Era nobile abbastanza per ritrattare, ma non era ancora maturato. È immaturo l'amore del giovane e immaturo il suo odio per l'uomo e la terra. Legati e grevi sono ancora il suo animo e le ali del suo spirito, ma nell'uomo c'è più bambino che nel giovane e meno malinconia. Egli si intende della vita e della morte. Libero verso la morte e libero nella morte. Un santo negatore quando non è più tempo per dire sì. Così intende la vita e la morte. Che il vostro morire non sia un insulto all'uomo e alla terra, amici, questo io chiedo al miele della vostra anima. Nel vostro morire devono brillare il vostro spirito e la vostra virtù, come il crepuscolo che avvolge la terra, oppure il morire vi è mal riuscito. Voglio morire io stesso perché voi amici per causa mia amiate di più la terra e terra voglio ritornare per aver pace in quella che mi generò. In verità un fine aveva Zaratustra e gli getto la sua palla. Ora voi amici siete eredi del mio fine. A voi getto la palla d'oro. Nulla vedo con più piacere di voi amici miei che gettate la palla d'oro e così mi trattengo ancora un poco sulla terra perdonatemelo. Così parlo a Zaratustra.